Sindaco, siamo nella sede del Consorzio Universitario, si è svolta adesso la conferenza civica Saugrigento 2025, direi finalmente c'è stata questa partecipazione aperta al pubblico, l'aula Magna era gremita, ci sono praticamente composti quattro tavoli, un in una ci sarà Federica Salvo, nell'altra Florinda Saieva, Viviana Buscemi e Valeria Scavoni. In questo momento nelle aule del Consorzio ci sono tutte le persone interessate a partecipare a questi incontri. Come è andata? Io sono abbastanza soddisfatto, hai detto una parola giusta, finalmente. Finalmente perché? Perché dopo aver chiuso l'iter burocratico per la fondazione dell'Ugendo 2025, finalmente sono riuscito a coinvolgere l'intera cittadinanza ed erano presenti i massimi esponenti di associazioni cittadini, ma anche i cittadini comuni che erano interessati anche a dare il loro contributo alla cittadina. E per questo ne sono fiero, perché ho visto appunto che il cittadino ama il territorio. Mi sono riuniti però in quattro aule, proprio per i quattro temi di cui poco fa tu hai parlato. Sì, ricordiamoli, comunità e governanza degli spazi pubblici, creatività e produzione culturale, ospitalità e accoglienza turistica, centro storico e periferia. Sì, e quello che io volevo, volevo che il cittadino desse dei consigli, il cittadino che vive per esempio nel centro storico, che vive in un cortile, vive in una via, portare soltanto a noi, agrigentini, a noi amministratori, come possiamo migliorare, e dal punto di vista del decoro urbano, ma anche dal punto di vista dell'accoglienza, il nostro centro storico. Era presente il presidente della fondazione, il professore Minio, che ha fatto un bel intervento. Devo dire che sono dispiaciuto per il fatto che non è stato presente Roberto Albergoni, che per motivi familiari non è presente. Io credo che adesso si possa partire. Voglio ringraziare ultimamente Roberto Albergoni e Margherita Orlando perché sono i due progettisti e sono gli attori principali di quello che sta succedendo oggi all'agrigento. Loro, se ben vi ricordo, hanno già vinto una prima volta Palermo nel 2018. Palermo ha cambiato completamente il suo aspetto dal punto di vista culturale, ma anche più di architettonico, di decoro urbano. Mi auspico che questo possa succedere poi all'agrigento. Sì, è vero, Roberto Albergoni, per problemi familiari, mi auguro che non è stato presente, però è l'anima di questo progetto. È giusto ricordare Margherita Orlando che era presente, ma era anche presente e ha fatto gli onori di casa, il presidente dell'Equa, Giovanni Perino. Giovanni Perino che ringrazio per la disponibilità, è una grande persona, una grande figura, una persona di uno spessore culturale e di una competenza pazzesca perché in pochissimo tempo sta cercando di rivoluzionare questo consorzio universitario. Proprio lui poco fa mi diceva che vuole puntare a migliorare il consorzio, ma per migliorare indirettamente l'agrigento. Sindaco, cambiamo completamente il tema. Si è svolto ieri, io ero presente in Prefettura, un incontro molto importante. Presente il Prefetto, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante dei Carabinieri, in cui si è parlato del tema dell'acqua. Io ho ricevuto oggi un comunicato stampa da parte del cartello sociale, in cui io sono perfettamente d'accordo, che poi mi viene conto è quello che hai sempre sostenuto tu, ci vuole il dissalatore. Senza dissalatore noi non ce la facciamo, quindi l'invito è quello di in tutte le sedi, non dico battere pugni, non serve a niente, ma chiedere il dissalatore. Sì, hai detto bene, battere pugni a volte è controproducente e si può ottenere l'effetto opposto. E questo non lo voglio per la mia città e per il mio territorio, assolutamente no. Io non sono un politico puro sangue, l'ho sempre detto, sono un professionista, un medico che mi sono, tra virgolette, prestato alla politica per dare un sostegno alla mia città. Ebbene, questo è anche uno degli obiettivi che devo cavalcare, devo raggiungere e per fare questo naturalmente io utilizzo le mie armi, io non ho per mia indole, per mia cultura, per mia formazione, anche familiare, perché no? Sono abituato a ottenere le cose con i miei metodi, con molta discrezione, con molta gentilezza, con molta cortesia, perché voglio raggiungere l'obiettivo. Non uso l'arroganza e questo in parte mi è servito, perché voi dovete sapere che l'11 di aprile io ho consegnato proprio al ministro Musumeci, in quel di Gaeta, nel terzo forum del mare, un documento dove io parlavo delle misure correttive per la crisi idrica e del servitore dell'Agricento, io vi ho compreso anche la problematica del distratore. E quindi tornerai a battere questa strada? E non mi nascondo che la batterò a 360 gare utilizzando qualsiasi risorsa pubblica o privata, basta che i tempi mi diano ragione, perché la mia città è assetata e non possiamo più aspettare. Sindaco, un minuto. No, ma io guarda, quando tu, sindaco, hai fatto quella provocazione, consegno il titolo, io l'ho condivisa subito. Sono stato criticato, però da lì è scattato un'altra cosa. Un'altra cosa, ieri tu hai fatto un passaggio sulla rete idrica, dicendo secondo me una cosa all'opposto di come ogni volta si dice. E quindi mi piacerebbe che tu, qui... Ti ringrazio per l'assessi che mi stai dando. Ma la rete idrica è fondamentale, però voglio dire... Ieri sì, anche nella conferenza stampa si è parlato che avevamo perso il finanziamento. Ebbene, secondo me non l'avevamo perso, noi abbiamo avuto un finanziamento. Io voglio ricordare a tutti che nel 2021 il governo musumeci si era stabilito un patto tra il governo regionale e la città di vivendo per il rifacimento della rete idrica. No, no, aspetta, c'era un decreto in cui per la prima volta si mettevano i soldi a disposizione per la realizzazione. Qualcuno mi disse, mi ha detto ieri, ma da almeno vent'anni che noi sentiamo queste fantone e queste promesse. Ebbene, però perché in vent'anni non hanno mai fatto un bando, non hanno mai fatto una gara? Invece nel 2021 parte l'ITAR, bando di gara, gara, aggiudicazione dei lavori. Però purtroppo per le lungaggini burocratiche che noi sappiamo per una gara di questa portata, sono passati due anni. Lavori consegnati 15 giorni prima della scadenda. Allora, Sindaco, il discorso è questo. Nell'accordo del programma quadro si parla anche di questa rete idrica, a parte tutto il resto delle cose. Batterai anche questa strada per vedere effettivamente questi soldi quando saranno rimessi nel calderone in maniera tale che il direttore lavori possa nuovamente consegnare lavori? Sicuramente non devono passare più di due mesi per i miei gusti, perché i tempi tecnici burocratici, affinché il decreto, cioè dalla firma della Melone, affinché il decreto poi sia operativo ad Aica, penso che due mesi possono essere sufficienti. Ma non voglio andare oltre. Cioè, subito dopo il 3 settembre e ottobre deve ripartire, anche perché il RUP è stato intelligente. E quando ha visto che scadeva il finanziamento, immediatamente ha bloccato i lavori, bloccando i lavori, ha lasciato in essere bando e gara. Quindi non c'è bisogno più di perdere altri due anni per rifare bando e gara. Già i lavori aggiudicati, arrivando il decreto, lì domani possono riprendere i lavori. Sindaco, grazie e alla prossima. Grazie a te.